Per aggiungere un token temporaneo in ePassan Manager, utilizzando un lettore di gestione USB, iniziare facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Quindi fare clic su Profili di accesso alla porta, e continuare a utilizzare la tendina per trovare l'utente che si desidera modificare. Una volta selezionato l'utente, fare clic su Aggiungi una credenziale. A questo punto è sufficiente deselezionare la casella di permanenza, e scegliere un intervallo di date per il token temporaneo. Selezionate quindi il tipo di credenziale e posizionate il token sul lettore di gestione. Il codice e il colore del token si aggiorneranno automaticamente sullo schermo, indicando che avete aggiunto con successo un nuovo token. Infine, fare clic su Salva prima di uscire. Grazie. 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 Grazie.